Assaltavano Saleslot e Barnell, Veneto orientale presa una banda di fredoni dell'est. Anziano picchiato e derubato in casa, c'è paura in paese dopo la violenta aggressione. Dopo il blitz il provvedimento chiuso dai vigili il Cannabis Store del centro storico di Venezia. Ma i Cannabis Store spuntano un po' ovunque in Veneto, ce n'è uno anche a Mestre. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale. Iniziamo subito con una notizia dell'ultima ora. È stato condannato con rito abbreviato dal Tribunale dei Minori di Venezia a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il 17enne Kosovaro accusato insieme ad altri tre connazionali di aver inneggiato a un possibile attentato a una bomba di matrice jihadista a Venezia in piazza San Marco. Si tratta del giovane che secondo gli investigatori avrebbe detto a Venezia guadagni subito il paradiso. Per quanti ipocriti ci sono qua ad avere una bomba a rialto sarebbe perfetto. Un'affermazione che secondo l'avvocato difensore sarebbe di difficile attribuzione al 17enne che si è sempre difeso sostenendo di non aver nulla a che vedere con l'ISIS. Il giudice per l'udienza preliminare evidentemente non l'ha ascoltato, non gli ha creduto ed è arrivata questa condanna. 4 anni e 8 mesi di reclusione. Altro blitz importante da parte dei carabinieri che hanno fermato l'operatività di una banda di predoni dell'Est. Eccoli i predoni dei bar e delle sale slot, banda di romene e un moldavo da oggi agli arresti. Agivano con la tecnica ricognitiva e poi assaltavano i locali sempre con lo stesso modus operandi. Oggi sorpresi nel sonno all'alba, nel blitz dei carabinieri con oltre 60 uomini impegnati in seguito all'indagine condotta dal procuratore aggiunto Stefano Ancillotto. La banda da maggio 2016 aveva messo a segno 25 colpi in locali del Veneziano e del Padovano e ripetuti con cadenza settimanale. Oltre 130 mila euro di guadagno al netto, cioè di soldi incontanti. E voi considerate però il danno subito, l'enorme danno subito dai proprietari degli esercizi commerciali che si erano costretti anche a dover poi riparare tutto ciò che veniva devastato. Le spaccate a Mestre e Marghera e lungo tutto l'asse del Miranese, Mira, Zianigo, Santa Meri di Sala, Pianiga, nella Venezia orientale a San Donai e Musile e quindi nel Padovano a Campon San Piero e Campo d'Arsego. In carcere un moldavo di 45 anni e tre romeni, rispettivamente di 28, 31 e 30 anni, quest'ultimo pure papà di un bimbo piccolo. Tutti con casa Mestre di cui un centro storico, tranne il quinto che invece abitava a Borgoricco, un trentenne finora incensurato. Tutti avevano anche reinvestito i loro proventi nei paesi d'origine. L'appello dei carabinieri a denunciare ogni tipo di reato predatorio e non soltanto. Questa è la dimostrazione che invece con l'impegno, con la determinazione e la collaborazione di chi ci ha aiutato a ricostruire queste fasi di questa organizzazione criminale, è la dimostrazione che queste persone verranno punite. Aggressione violenta ai danni di un anziano picchiato in casa. C'è paura ora a Torre di Mosto dove è avvenuta questo episodio, questa aggressione. Continua la caccia ai responsabili della brutale aggressione ai danni di Angelo Pupin, l'87enne di Torre di Mosto, aggredito sulla soglia di casa per portargli via il portafoglio con appena 100 euro. I carabinieri sono sulle tracce degli autori del pestaggio che ha causato all'anziano un trauma cranico e la frattura del bacino. Nel frattempo Angelo è fermo a letto, cerca di dimenticare. La sua convalescenza durerà almeno sei mesi, considerando l'età avanzata. È la frattura al bacino che desta maggiore preoccupazione. L'anziano deve rimanere immobile perché qualsiasi movimento gli provoca dolore e il dolore gli fa tornare alla mente quella terribile aggressione. Mangia e cerca di dormire. Dice solo, ci ha riferito suo nipote, che si considera uno sfortunato, come se quanto gli è successo fosse colpa sua. Due malviventi che dalla truffa sono passati all'aggressione senza alcuna pietà, sbattendolo a terra sull'ingresso di casa, vittima di una violenza cieca e brutale per appena 100 euro. In tanti si sono recati in questi giorni a casa di Angelo per sapere quali siano le sue condizioni. Alcuni parenti gli hanno portato una poltroncina sanitaria per quando l'uomo riesce a stare seduto. I pochi familiari che lo assistono però chiedono di essere aiutati. Angelo necessita di altre cose. Abbiamo bisogno di tutto perché è una persona che vive sola e si può immaginare il dramma che si crea. Adesso cerchiamo di trovare un letto con le spondine. Fuori proprio dramma quello che sta vivendo questa famiglia. Andiamo in centro storico per parlare della chiusura del cannabis store avvenuta nelle scorse ore. C'è qualcuno però che si scaglia contro questa decisione. La lunga ispezione di polizia locale ULST3 al cannabis store di Calle dell'Anconeta si è conclusa dopo le 20 di ieri sera con il sequestro dell'esercizio per quelle che il sindaco Luigi Brugnaro definisce gravi irregolarità. A motivare il provvedimento la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento comunale di igiene ovvero acqua corrente, spogliatoio e servizi igienici ad uso del personale. Un intervento definito ipocrita dal consigliere comunale a 5 stelle Davide Scano che difende i gestori del discusso punto vendita di prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC. Si spaccia illegalmente in tutto il territorio comunale che è diventato il fulcro diciamo dello spaccio di tutto il Veneto e poi però si va a perseguire un'attività economica lecita usando in modo ritorsivo a nostro avviso la polizia locale. Le stesse irregolarità riscontrate in quell'esercizio sono presenti probabilmente in centinaia di altre attività del centro storico veneziano, no Tascano. La verità è che si è voluto colpire il tipo di commercio. A difesa del cannabis store si schierà anche Matteo Secchi di Venesia.com che ricorda come per secoli la Serenissima fosse nota in tutta Europa per il suo liberalismo prima di abbracciare una mentalità provinciale che non le appartiene. Quando era grande tutti sanno che Venezia era famosa per avere fumerie, per avere prostituta, cioè un luogo di perdizione. Non voglio auspicare che Venezia diventi questo, no, però fa sorridere questo moralismo fatto in fatalità nel momento più basso della storia veneziana. Noi siamo piccolissimi, ridottissimi e ridicolissimi e però siamo grandissimi nel fare moralismi a noi stessi e agli altri. Avete sentito? È un'attività legale, tant'è che di questi cannabis store ne spuntano qua e là in tutto il Veneto e ce n'è uno anche a Mestre. Allora è paradossale che si chiuda quello in centro storico e non quello in terraferma. Io abito qua vicino, ma è poco tempo che l'hanno aperto. E da un po'. Sì, sarà un mese, dieci giorni, non so. Stupore e meraviglia in via Rielta a Mestre per il Cannabis Store aperto da tempo eppure invisibile agli occhi di quanti ci passano ogni giorno. Io non l'ho mai visto che ho aperto, sì che passo di qua. Il negozio, manca a dirlo, si chiama Grace, come la famosa pellicola L'erba di Grace. Due vetrine quasi spoglie se non fosse per i colorati bonghi esposti. Dentro tutto il kit per chi vuole svappare con la sigaretta elettronica o crearsi quella fai-da-te con la classica cartina che come la tornasole, manca a dirlo, eppure questa d'origine vegetale. Con la canapa venduta che per legge ha un bassissimo contenuto di THC, ovvero meno dello 0,6%, con importanti effetti ansiolitici e sedativi, assicurano dalla rivendita. Se è legale e paga le tasse, se le hanno dato il permesso di aprirlo, ben venga nel senso. Sarà molto meglio che quei quattro spazzatori che ci sono qui dietro l'angolo in parco. Io penso che sarebbe stato meglio anche per l'altra droga, perché così ci sarebbero meno delinquenti in giro. O no? Quindi le dice che vanno tenuti aperti questi esercizi? Non lo so, se questa non fa male, perché ho sentito per televisione che la doperano anche fare delle cure adesso. Ho dolori, ma non prenderò mai una droga. Capisce signorina? E cosa ne pensa del fatto che gli hanno fatto aprire quel negozio e poi gliel'hanno fatto chiudere subito dopo perché mancava il bagno? Perché hanno sbagliato a farlo aprire. Questo è il discorso. Lei cosa ne pensa del fatto che è stato chiuso questo negozio perché mancavano i servizi igienici per il personale? Chi ha fatto bene a chiuderlo? Mi so contraria a tutti i negozi che già ha e tutta che roba. Insomma avete sentito, i veneziani si dividono, almeno dal punto di vista delle opinioni. È tutto per questa edizione di TG Venezia. Vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto. Grazie. Grazie.